C'era una giornata di divertimento folle. O c'è una giornata di quelle che con i soldi tu non la puoi. Ci parlerete dei concetti e delle tecniche di guida che vi serviranno poi nell'arco dei mesi e degli anni. Noi abbiamo il convito di starvi al fianco, di essere un po' i vostri insegnanti, se vogliamo chiamarlo così. Passerete una bellissima giornata di passione, che è la passione che noi cerchiamo di vivere tutti i giorni. Questo è un po' il quattesimo, è il first meeting di questa proposta, mobile service. Noi vogliamo fare un programma che sia invitante per i meccanici, che non è solo un programma di branding, ma è anche un programma di branding. Noi vogliamo fare un po' i vostri insegnanti, se vogliamo fare un po' i vostri insegnanti, se vogliamo fare un po' i vostri insegnanti. Essere in parte tecnologico, dentro la filiera produttiva di Porsche, Porsche vuol dire scegliere di sperimentare con il marchio eccellente a livello globale per la distribuzione. Credo che per chi fa il vostro lavoro sia una scelta di campo importante, perché vuol dire che ci si avvicina o si sceglie un prodotto di qualità. I am high on emotion, high again, high on emotion, your love will find the way, high on emotion, high again. E' quello che avete imparato oggi vale anche tutti i giorni in mestrata. All in motion, high on emotion, high again. All in motion, high on emotion, high again. All in motion, high again. All in motion, high again. All in motion